...e anche questo governo, no? Ma è possibile che c'è questa inchiesta, queste intercettazioni imbarazzanti e i ministri della Repubblica fanno la corsa, la gara per difendere, per criticare le indagini, per parlare di magistratura? Ma devono stare fissi, a cominciare da Crosetto. Crosetto, su questo tema, il ministro della Difesa deve tacere. Un ministro non dovrebbe mai mettere bocca su un'inchiesta del genere che... E l'ultima cosa, Floris, Corsano se lo ricorda. I Missini un tempo, durante Tangentopoli, slogan, arrendetevi, siete circondati dalla parte della magistratura inquirente. Oggi i cosiddetti nostalgici della destra sociale si sono trasformati tutti in berlusconiani. Questo è il tema veramente grave per me dell'attuale governo della Repubblica. Tutti i berlusconiani. No, Di Battista, hai una concezione sbagliata su quella